Profitto della visita di Fano TV, che verifica e parla il territorio, molto territorio della nostra di oggi, di Fano Fossofroni Caglipergola, per dare un augurio affettuoso di Buon Natale, Buone Feste a tutti i cittadini e anche ai nostri cristiani. Natale. Ecco, se Dio accetta di essere uno di noi, la vita deve essere per forza splendida. Un Dio che ama la vita fino a morire, fino a volerla condividere, che per amore decide di mettersi alla pari, di annientarsi, che accetta la sfida di spogliarsi della propria divinità, per condividere ogni istante con l'uomo. Dio non è, né mai sarà, un concorrente dell'umano, anzi è a servizio della nostra felicità. Natale, cari amici, è il Dio che si prende cura dell'umanità ferita dal peccato, dalla tristezza, dal male e dalle morti. Dice l'Evangelo, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. Cioè Dio si prende cura di noi, ha a cuore la nostra vita e per noi dona la sua vita. Dio ritiene cosa meritevole il prendersi cura dell'umanità. Quanta difficoltà oggi a prenderci cura di noi stessi in modo vero, in modo autentico, liberante. Quanta superficialità nei riguardi della vita, del tempo, degli ideali, degli affetti, dei sentimenti, delle relazioni. Quanta difficoltà a ricercare l'essenziale nella vita. Quanta paura di accostarci all'altro, al diverso, allo straniero, al peccatore. Non temete, dicono gli angeli ai pastori la notte di Natale. Ecco loro il mio augurio e un compito, benevolo ma sempre compito, uomo o donna di potere o meglio di servizio. Prenditi cura di tutto il tuo popolo, della tua città, del tuo territorio. Prenditi cura soprattutto dei più deboli, degli sconfitti della vita, persino degli avversari. Prenditi cura del creato, dell'ambiente. Custodiscilo per oggi e per il futuro. Uomo o donna imprenditore, prenditi cura del mondo operaio. Investi le tue energie, i tuoi sacrifici, le tue capacità, con e per la tua gente. Non fuggire proprio ora. Genitori, prendetevi cura dei vostri figli con amore e dedizione. Fatevi educatori e testimoni di vera spiritualità, anche nella solitudine, ma con speranza. Uomo o donna, prenditi cura del tuo coniuge, custodisci l'amore. Esercita la responsabilità, non fuggire alle prime difficoltà. Ricusa le scorciatoie di amori rubati o superficiali relazioni. Figli, prendetevi cura dei vostri genitori, dei vostri fratelli, dei vostri nonni. Abbiate il coraggio di ascoltare la loro saggezza, frutto degli anni e anche del soffrire. Uomini e donne di buona volontà, credenti o dubbiosi, non disdegnate la benevolenza verso i bisognosi e i fragili, e anche di quanti hanno fallito nella vita. Carissimi cristiani, prendetevi cura della vostra chiesa, delle vostre comunità, dei vostri predi o consacrati. Carissimi presbiteri, diaconi e consacrati, prendetevi cura senza tristezza e rassegnazione del vostro e nostro popolo tutto. Facciamoci riconoscere come dono per il nostro tempo e per il nostro territorio. Che fare per rendere gli uomini migliori, diceva Santo Corrado d'Arsa? Bisogna amarli, amarli ad ogni costo, amarli sempre. Il mondo appartiene a chi più lo ama e meglio gliene dà prova. Buon Natale e buone feste a tutti. Buon Natale e buone feste a tutti.